il cristianesimo è trascendente di paolo risso il mondo di oggi non si occupa di sapere quale delle religioni cristiane sia la vera ma quale delle religioni sia la più utile taluni dicono perfino che tutte queste religioni altro non siano che fasi passeggere della religione contro un simile atteggiamento la ragione argomenta a favore della trascendenza del cristianesimo augusto de broglie ci ricorda che la prova della trascendenza del cristianesimo differisce dalla prova della sua divinità la prima è indipendente da qualunque idea concernente la causa del cristianesimo la seconda implica dio l'argomento a favore della trascendenza del cristianesimo ci prepara alla prova della sua divinità perché se il cristianesimo è trascendente esso deve avere una causa suprema e divina la trascendenza non consiste nel dimostrare che il cristianesimo supera qualunque altra religione ma che esso è superiore a ogni confronto la trascendenza costituisce un cambiamento di grado di ordine e di specie la trascendenza è una superiorità di tal genere da costituire un'eccezione alle leggi comuni dell'attività umana e quindi implica una casa superiore i grandi problemi delle religioni sono la morte il dolore l'errore e il peccato un'esauriente dottrina della salvezza deve necessariamente trattare della remissione soluzione da loro tutti storicamente troviamo che molte delle religioni del mondo si sono principalmente occupate di uno solo di questi problemi a esclusione di altri ma nessuna religione all'infuori del cristianesimo si è interessata tutti e quattro e in maniera così pienamente integrata che l'uno scaturisce dall'altro non c'è nella storia che è un'unica religione la quale tenga conto di tutti e quattro i problemi accennati dimostrando che l'uno sia collegato all'altro e questa religione è il cristianesimo nella sua sintesi la sofferenza e l'errore sono le risultanze del peccato il peccato può venire sopraffatto dalla morte e nella morte la personalità raggiunge la propria perfezione in colui gesù cristo che è modello e causa della redenzione il cristianesimo prende le mosse dal principio che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di dio il che implica un'intelligenza e una volontà o semplicemente un essere libero quali non sono gli elementi chimici e i fiori come creatura l'uomo dipende dal suo creatore il paradosso del cristianesimo è che l'uomo è indipendente perché è dipendente così come il pendolo dell'orologio è libero di oscillare perché è sospeso la sua vera libertà è nell'arrendersi a dio la sua falsa libertà sta nello sconfessare tale dipendenza in una falsa dichiarazione di indipendenza con cui egli fa di se stesso un dio limitato in opposizione a dio ribellione che non potrebbe compiere se non fosse libero o se dio non esistesse mai potrebbe esserci l'ateismo se non esistesse qualcosa nei cui riguardi essere atei in secondo luogo questo rifiuto della condizione di creatura questa affermazione del relativo come di un assoluto questo diniego di un'immagine indelebile è la sorgente della sofferenza e dell'errore delle delusioni delle psicosi delle nevrosi perché il male è autodistruzione l'uomo non può essere soltanto una cosa di natura perché è cosciente un giglio non può guardarsi e riflettere su se stesso come in uno specchio ma un uomo lo può poiché è cosciente l'uomo deve sempre vedere se stesso o in atto di elevarsi all'unione con la vita con la verità e con l'amore che è dio e la sua perfezione o in atto di cadere lontano da dio nell'affermazione di sé nell'auto gratificazione nell'auto indulgenza per il semplice fatto che non si eleva deve cadere il terzo principio della sintesi cristiana è che l'errore il dolore la sofferenza e la morte inerenti a un abuso della libertà possono essere corretti non dall'uomo soltanto e tuttavia non senza l'uomo se dio decidesse di riconciliare l'uomo con se stesso mediante la forza non salverebbe l'uomo ma lo distruggerebbe perché l'essenza dell'uomo è la libertà l'uomo deve contribuire in qualche modo alla propria retenzione affinché la retenzione non venisse imposta all'uomo dall'esterno era giusto che l'unione di dio con l'uomo venisse effettuata nel dominio della libertà il primo segno della libera sottomissione del consenso dell'uomo all'avvento di dio come causa ricreatrice entro il mondo decaduto dell'uomo stesso è l'assenso della vergine maria sia fatto di me secondo la tua parola un atto di libertà ha segnato l'inizio della rigenerazione umana e da quel giorno fino ad oggi nessuno è mai entrato nei meriti della redenzione se non mediante un atto di libertà come fece maria santissima il peccato è dunque una cosa grave tanto grave che in sede di giustizia l'uomo non può adeguatamente compensarlo il male del peccato ci viene rivelato nella sua essenza da ciò che esso ha fatto all'uomo dio crocifiggendolo il peccato è nella sua essenza l'antidio il male non può mai essere più potente di quando inchiodò cristo sulla croce ma essendo stato sconfitto dalla risurrezione non può mai essere di nuovo vittorioso il male possiamo vederlo sul calvario come ripulsa dell'amore ma allo stesso tempo pena sofferenza errore menzogne false accuse tutto si inserisce nel piano della redenzione perché la vittoria di cristo non è soltanto sulla morte ma mediante la morte essendo la vittoria del sacrificio di sé e il sacrificio di sé non è mai completo se non dà la vita non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici giovanni 15 14 la sofferenza il male l'errore sono superati dalla sua morte in linea di principio ma non ancora di fatto essi continueranno ad esistere fino al giudizio finale come punizione del peccato sebbene l'uomo rigenerato possa tra queste tribolazioni utilizzarli come fece cristo per la propria salvezza anziché ostacoli essi diventano la materia prima della spiritualizzazione nessun'altra religione al mondo dà alla morte il valore del cristianesimo perché le altre religioni la isolano dal peccato per tutte le altre religioni la morte è o irreale o una liberazione dello spirito o un distaccarsi dal corpo considerato come ostacolo all'unione con dio ma per il cristianesimo la morte è al medesimo tempo penalità per il peccato e condizione di eterna felicità perché attraverso la morte l'amore compie quel sacrificio di sé che conduce alla perfezione nella vita eterna poiché è l'amore che salva occorre perdere la vita per poterlo conquistare la sola religione che di tutti questi problemi quattro problemi di cui all'inizio faccia una sintesi mostrando poi come l'uno sia il risultato dell'altro e come ciascuno di essi possa venire strumentalmente utilizzato per la vittoria è il cristianesimo esso non ci dà un quadro della disfatta seguita dalla vittoria dalla sofferenza seguita dalla gioia o della morte seguita dalla vita ma della conversione dell'una cosa nell'altra il vostro dolore si muterà in gioia giovanni 16 20 la disfatta diventa vittoria il peccato diventa felix culpa la morte diventa vita eterna le sofferenze di questa vita non meritano di essere messe a confronto con la gioia che sta a pervenire romani 8 18 nessun'altra religione all'infuori del cristianesimo dà un significato non soltanto alle gioie della vita ma anche ai suoi dolori non vi è alcuna religione o filosofia ad eccezione del cristianesimo che abbia davvero estratto il pungiglione dal male del mondo esso il cristianesimo è l'unica religione che possa farlo perché il suo signore della gloria è stato anche l'uomo dei dolori